I contagi sul lavoro dal nuovo coronavirus denunciati all'Ineil tra la fine di febbraio e il 4 maggio sono 37.352, quasi 9.000 in più rispetto ai 28.381 registrati dalla prima rilevazione del 21 aprile. I decessi segnalati all'Istituto nello stesso periodo sono 129, 31 in più rispetto al monitoraggio precedente. Il report conferma la maggiore esposizione al rischio del personale sanitario e socioassistenziale, il 73,2% delle denunce e quasi il 40% dei casi mortali infatti riguardano il settore della sanità e assistenza sociale.